E' che quando venite, è prima di dare un po' a loroンドi che hanno fatto le nostra ragazze Quali internazioni sono un po' di loro, o può fare anche i due ragioni Questa cosa si è arrivata è che qualcuno mi è interessato e che non mi si è interessato Perché vedete, non ha, io che non ho un po' di �do, non si chiama Io ho un po' di, ci sono un po' di chiara, un po' di ragazza, venite da la merda Ma non ci sono scopalati due cose del tuo palazzo sui loro potenti essere e pensare che in un mese qualcuno non c'è l'esercito e ha detto che non c'è l'esercito che non c'è l'esercito ma non c'è l'esercito come le altre che non c'è l'esercito se non c'è l'esercito mi c'è l'esercito che non è la intuja del limite che è l'esercito che significa un'esercito due cacare di un'esercito dici Dioci che un po' era stato in grado di farla se oggi noi mi convigna che c'è l'esercito grande e l'esercito e i partiti stellati quelli che sono risuanti per capitare per vendere i artisti perché li pagano per vendere i artisti cioè voi dovete immaginare questo l'artesante di l'esercito che è scattato in avviata che noi sono solo i decadini e i decadini in questa storia un po' è scattato perché quando il matrimonio si è l'esercito chi si è l'esercito chi si è l'esercito quando lo scatto il matrimonio assolutamente ne andiamo a vedere l'arte tutti gli artisti possono rispondere nel momento in cui scatto i decidi che ci sono in grado di rispondere e tutti possono quell'arte e tutti gli artisti e tutti gli artisti possono decidere quali artisti che sono uomini perché vedete se è vero l'arte è cibo per l'arte e poi è cibo per il corpo nessuno può dire che sei costretto a mangiare una cosa che non ti piace se vuoi piacere la pasta scotta la mangi pure se vuoi piacere un piacere invece non mangiare anche se fa bene l'arte è uguale voi dovete decidere qual è il tipo di arte che ti piace e per l'arte in Italia dovete modo di vedere tutto c'è tutto ci sarà anche quello che ti piace ci sarà quello che ti piace ma ci sarà anche quello che ti piace troverete cibo per favore l'anima che dentro e che ne vedete e vi dirò ho detto fra noi pochi che per quanto mi parla non hanno certo pittiche da nessuno perché nessuno sarebbe stato in grado di fare questo chi finirà sono solo i individuosi e i macchiosi e questa operazione artistica è l'importante operazione artistica che esiste i nostri artisti presenti sono tutti quanti meglio di cappellare tutti non ce n'è uno inferiore a cappellare voi vedrete una posizione fantastica come andare in un grande magazzino dell'arte ma qui c'è ce n'è per tutti voi vedrete che montano così un certo tipo di pittura un certo tipo di struttura un certo tipo di installazione di ceramica qui capiranno tutto capiranno che quello che mi piace è quello che non mi piace quindi è una grande iniziativa per la quale non sono diti questo per la quale io ringrazio tutti i miei collaboratori per la quale io ho recitato e vi direi che l'avete canta però qualcuno ci siamo qualcuno quando domani abbiamo una conferenza dallo Stato ma conferenza sui scambi parlare dell'amata dell'amata dell'arte dell'arte l'arte non è cosa nascita e la rivoluzione che ha portato scambi nel mondo dell'arte anzi i tuoi riusciti sono quelli prima di averlo parlato all'arte prima cosa perchè il scambi è importante nell'arte perchè da quando non esiste scambi scambi personaggio televisivo o popolare la gente ha pensato a far pieni di arte perchè siamo abituati con questi critici d'arte che un tanto di tutto qualcuno si rischia a facere critico d'arte che quando parlano non si capisce nulla non solo non si capisce nulla ti fanno odiare l'arte ti fanno odiare queste cose quindi non si capisce niente mentre invece da quando esiste scambi ti fanno odiare ho detto questo se ne guardò lavenzione ma quando si trascade tutti possono venire l'arte gli artisti possono scuotre mazza le macchie mazza le macchie ho detto questo ho detto questo ho detto questo in caso di tutti i lavoratori che hanno lavorato ringrazio chi ha scaldato la possibilità di ogni stradillo eccezionale Grazie a tutti.